Dopo il debutto avvenuto il 3 giugno, con l'arrivo di Costa Pacifica, nave battente bandiera italiana della flotta coste a Taranto, con oltre 5.000 passeggeri tra imbarchi, sbarchi e transiti, ieri l'avvio ufficiale della stagione croceristica, con una cerimonia di scambio crest tipica della tradizione marittima. Presenti all'evento il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, l'amministratore delegato di Costa Crociere Mario Zanetti, il presidente dell'autorità di sistema portuale del Marionio Sergio Prete e Raffaella Del Prete, direttore generale dei porti croceristici italiani di Global Ports Holding. Sino al 7 ottobre Costa Pacifica sarà a Taranto tutti i sabati, dalle ore 8 alle 17.30, per un totale di 19 scali, equivalenti a una stima di oltre 80.000 passeggeri movimentati. L'inaugurazione della partnership con Costa Crociere, ha dichiarato Sergio Prete, costituisce un successo sia per il porto che per la comunità, grazie alla solida relazione con la compagnia di navigazione italiana, avviata lo scorso ottobre, congiuntamente alle istituzioni locali, si apriranno nuove concrete prospettive per lo sviluppo del territorio e la valorizzazione della vocazione turistica dell'arco ionico. Per Raffaella Del Prete, con l'arrivo dello scorso 3 giugno di Costa Pacifica è iniziato un nuovo capitolo per Taranto, visti gli oltre 5.000 ospiti imbarcati, sbarcati ed in transito accolti in Terminal. Un bel banco di prova, un successo, ha dichiarato, che ci rende fiduciosi, che la relazione tra Costa Crociere e Taranto Cruisport sarà lunga e fruttuosa. Parole confermate dallo stesso Zanetti, che ha dichiarato, vogliamo continuare a lavorare insieme alle istituzioni e agli operatori locali per promuovere l'eccellenza del territorio e offrire esperienze sempre migliori ai nostri ospiti, che per la maggior parte delle volte provengono dall'estero e scoprono Taranto in molti casi per la prima volta. Taranto si riappropria della sua dimensione più autentica che usa il sindaco Melucci, ovvero quella di Capitale del Mare, e lo fa grazie agli sforzi congiunti di istituzioni e privati, che insieme credono in un modello di sviluppo alternativo. Il consolidamento del traffico croceristico è un segnale non trascurabile, certifica cioè che il territorio ha superato l'esame preliminare e può misurarsi a livelli sempre più alti.